Ritorna nel nostro settimanale appuntamento dedicato ai libri Cristian Bonaldi con un nuovo lavoro, una nuova storia pubblicata dalle Paoline. Ciao Cristian, bentrovato. Ciao, grazie anche a te Paola e un benvenuto a tutti i tuoi ascoltatori. Ci siamo sentiti tempo fa, credo un paio d'anni, non voglio errare, forse un po' di meno. Nel 2017, sì. Sono già passati due anni, pensa un po', per presentare una storia, quella di Angelica Tiraboschi. Oggi, tramite Angelica, perché potremmo dire anche così, poi sarai tu a raccontarci questi tre fili che si sono intrecciati tra di loro dando vita ad un unico filo rosso che ha unito le varie vicende e vi ha uniti. Oggi, a tra le righe, presentiamo la storia di Nicola Perin, Nicola e la sua inguaribile voglia di vivere, il mediano di Dio. Allora, questa volta non sei stato tu a scegliere di raccontare una storia, ma è una storia che ha scelto te, Cristian, per essere raccontata. Esatto, guarda, ti spiego brevemente come è avvenuto il tutto. Dopo la pubblicazione, come hai detto tu, del libro di Angelica, questa bellissima storia di questa giovane bergamasca, è arrivata tra le mani del frate Cappuccino, padre Gianluigi Pasquale, a Rovigo. E padre Gianluigi, essendo poi padre spirituale di Nicola Perin, il ragazzo di cui ho scritto il libro, ha proposto ai genitori di Nicola, che sono Adriana e Roberto, di contattarmi per dare la mia disponibilità a scrivere e a raccontare la storia meravigliosa di questo altro ragazzo, di Rovigo. Quindi la mamma di Nicola mi ha contattato tramite email, mi ha raccontato brevemente la storia di suo figlio e mi ha chiesto, molto semplicemente, come sa fare una mamma, un grande piacere, cioè quella di dare la mia disponibilità per raccontare, per scrivere la storia di suo figlio. E quindi è stato molto bello questo collegamento che si è creato poi tra Angelica e Nicola. Sembravano queste due bellissime figure di testimoni credibili del Vangelo che si sono richiamati, si sono intrecciati e io, piano piano, molto silenziosamente, delicatamente, sono entrato in mezzo a loro per raccontare, per descrivere le meraviglie che il Signore ha compiuto attraverso di loro. Quella di Nicola è una storia che davvero va dritta al cuore e all'anima di chi la legge, è una storia che ha da dirci, da raccontarci, è una storia che sprona, che ci sprona, magari anche a vivere in modo diverso la nostra vita. Perché Nicola aveva, dopo la malattia, perché purtroppo la malattia è entrata nella famiglia Perin, ha come scoperto, ma forse evidenziato ancora di più l'importanza di vivere ogni giorno a pieno. Quindi un giovane, un adolescente, aveva solo 17 anni, è ammalato con una fede vigorosa. E la sua fede, Christian, traspare anche dalle parole, dalle testimonianze dei catechisti, degli insegnanti, degli amici, che tu hai voluto riportare tra le pagine di questo libro. Esatto, guarda Paola, Nicola si è ammalato a 15 anni di leucemia, però prima di ammalarsi, Nicola è stato un grande esempio sia nel campo dello studio, una persona molto impegnata, diligente, responsabile, infatti le testimonianze dei tuoi insegnanti, sia degli elementari, delle mediche, delle superiori, hanno parole di lode per lui. Allo stesso tempo era un ragazzo molto in gamma anche nello sport. Lui praticava rugby, con la maglia numero 9 faceva il ruolo del mediano, per questo anche il titolo di il mediano di Dio questa volta però. E in questo campo sportivo sapeva dare il meglio di sé. Lui era una grande passione e era il senso anche, tra virgolette, della sua vita al di fuori dello studio e delle amicizie. Il suo futuro poteva essere proprio di fare carriera in questo sport, perché era un ragazzo molto promettente. Allo stesso tempo anche un altro hobby che aveva era quello della pesca. E proprio nella pesca possiamo scoprire che lui impara la pazienza, impara la solitudine, l'ascolto, ritrova se stesso. E entra in sintonia anche con il creato. Ci sono delle bellissime pagine dove lui descrive quello che sente, quello che prova, mentre si trova in riva al fiume a pescare, al mattino presto o la sera, quando al tramonto calano le luci e ascolta gli uccelli cantare il ruscello che scorre nel suo letto. Sono delle descrizioni molto belle, poetiche. E quindi è un ragazzo bello, attivo, amico di tante persone, di fare il bene già a quell'età. E nonostante questo, a questo ragazzo che sembra non manchi niente e abbia tutto per il suo futuro, arriva una tegola in testa, ma di quelle potenti, che è la malattia, che è la scoperta della leucemia. Il capitolo che nel libro parla della malattia l'ho chiamato il fuoco. E le fogli vie di Dio anche, perché Dio veramente, abbiamo scoperto, si serve delle vie più impensabili per portare una persona a crescere, a maturare nella fede e a dare il meglio di sé. E proprio Nicola, nella leucemia, nella malattia, dopo un periodo iniziale molto comprensibile, in cui si faceva le domande che penso si possano fare chiunque scopre di avere una malattia di questo tipo. Cioè, perché proprio a me? Cosa ho fatto di male? Nella mia vita avevo tutto, nella mia giovane vita non mi mancava niente. Cercavo di essere sempre un cristiano giusto almeno, non eccessivo, non eccellente, però almeno quello che si poteva aspettare da una persona della mia età. Eppure, nonostante tutto, il Signore mi ha voluto mettere alla prova. E dopo un periodo iniziale di difficoltà nell'accettare questa situazione, ha capito che l'unica soluzione era quella di abbandonarsi tra le mani di Dio e per fare la sua volontà, anche se lui al momento non riusciva a capire quale poteva essere. La capirà col tempo, lungo gli anni della malattia. E alla fine dirà che questa malattia è stata provvidenziale, perché ha aiutato lui a crescere, a maturare nella fede, ma ha aiutato anche tante altre persone che l'hanno conosciuto, che l'hanno incontrato, a cambiare radicalmente il loro cuore attraverso il suo esempio, attraverso la sua esperienza di malattia. Tu scrivi, Cristian, che nell'esperienza umana di Nicola ognuno di noi può intravedere un nuovo modo di affrontare la propria vita, appunto quello che dicevi, di guardare con occhi diversi tutto quello che succede, di scoprire i segni di Dio anche nelle cose che frenano la nostra attività. Questo non perché si hanno tanti anni di esperienza, ma solo perché si riconosce che c'è un amore che spesso ci sovrasta. Quindi questo è un po' davvero in sintesi quello che Nicola Perin ha vissuto. E poi, ecco, una curiosità legata appunto al modo che hai utilizzato per scrivere il libro, hai deciso di dividerlo in tre sezioni, che sono appunto terra, fuoco e aria. Come mai questa divisione in questi tre elementi, Cristian? Come è stato per Angelica, il libro l'avevo diviso per i misteri del Rosario. Lei era molto legata a Maria e al Rosario, lo recitava spesso. E allo stesso modo ho voluto pensare al termine del racconto della vita Nicola, come potevo dividere invece la sua vita. E mi sono venuti in mente questi tre elementi. Il primo la terra, perché ripercorre la nascita di Nicola, tutta la sua prima parte della vita, quindi spensierata, gioiosa, nello sport, nello studio. E poi la seconda parte il fuoco, come ti ho detto prima. Il fuoco perché il Signore l'ha provato al fuoco. L'ha purificato, gli ha tolto quello che era in eccesso nella sua vita. E l'ha reso, non voglio esagerare a dire perfetto, però l'ha reso pulito. L'ha reso trasparente, limpido. Ha tolto tutto quello che non serviva, la zavorra, nella sua vita. E questo attraverso anche la malattia e l'esperienza di fede che ha maturato nella malattia. Mentre la terza parte, l'aria, perché lo ritraggo come libero nel paradiso, nel cielo, a guardare, a vigilare su ciascuno di noi, in compagnia di Dio. E questi tre aspetti mi sono piaciuti per un ragazzo come Nicola. L'ho ritrovato, e così anche nel momento in cui mi sono confrontato con i genitori, che ovviamente in prima persona l'hanno vissuto in tutte le sue esperienze della vita, hanno dato la loro approvazione, il loro consenso, e soprattutto anche loro hanno riconosciuto che queste tre divisioni potevano riassumere benissimo la sua vita di diciassettenne in questi anni, prima della malattia, durante e dopo. Come dire, un testamento, una ricchezza molto grande, quasi indescrivibile, quella che Nicola ha lasciato a chi lo ha conosciuto. In primis i suoi genitori. Mi dicevi prima a Telecamere Spente che mamma Adriana e papà Roberto stanno facendo molto volontariato in questo periodo, soprattutto nel nome di Nicola. Quindi un modo per sentirsi utili, per essere accanto al prossimo, per dare qualcosa a chi ne ha bisogno. Esatto. Diciamo che Nicola, quando è stato nell'ospedale di Padova, poi a Verona per un breve periodo, e infine nell'ospedale di Rovigo, quando ormai mancavano poche settimane alla morte, ha sempre avuto accanto a sé dei medici meravigliosi, così come gli infermieri straordinari. E poi anche tutto un altro gruppo di volontari che l'ha sempre assistito, che l'ha sempre aiutato in tutte le necessità che poteva avere, sia per la sua età che per materialmente le necessità anche della famiglia. E in particolar modo i genitori e Nicola hanno avuto un affetto particolare per una fondazione, quella di Team for Children di Padova. Questi volontari hanno veramente assistito la famiglia e Nicola, sono diventati loro amici, e anche dopo la morte hanno continuato a seguire la famiglia, ad aiutarli a sentirsi. I genitori di Nicola hanno voluto ricambiare questo loro affetto, organizzando ormai dalla sua morte in poi diverse attività per raccogliere alcuni soldi, a volte di più, a volte di meno, comunque non interessa il quanto, ma il gesto che loro ripetono in continuazione, quello di restituire a loro quello che a loro volta hanno ricevuto. E' un modo anche per continuare a mantenere viva la figura di loro figlio, il quale Nicola era una persona molto generosa, disponibile, altruista. L'ha dimostrato prima della malattia, e poi durante la malattia, per tutte le fatiche fisiche che aveva, non è più riuscito a fare chissà che cosa. Però i loro genitori hanno voluto raccogliere il testimone e continuare questa bellissima attività di volontariato, ma anche di beneficenza nei confronti di chi ha più bisogno. Io consiglio ai nostri telespettatori di leggere la storia e di immergersi nella vita del mediano di Dio, di Nicola Perin. Questa bella storia davvero raccontata, una storia di fede vigorosa, così come è stata definita di Nicola, raccontata da Cristian Bonaldi, edito dalle Paoline. Ecco, guardate, Nicola Sorridente in primo piano, in copertina del libro, il mediano di Dio, quindi edito dalle Paoline. Vi consiglio vivamente di leggere questa storia, perché fa davvero bene al cuore. Grazie Cristian per essere stato con noi. Non so, forse magari ci rivedremo tra un altro paio d'anni, perché racconterai un'altra storia di un giovane santo della porta accanto, così come tu stesso hai definito. Vedi che in questo periodo ce ne sono molti, se ne scoprono tanti di questi ragazzi meravigliosi, sicuramente ce ne saranno ancora. Ecco, e grazie a te davvero per renderli pubblici e per farli conoscere anche a noi. Grazie ancora, alla prossima occasione Cristian. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti.